Buonasera da Tu per Tu, millenni di civiltà sembra non siano riusciti a modificare una legge non scritta che prevede il predominio del più forte sulle persone più deboli, sulle persone più sensibili e quindi giovani di 14 e di 15 anni, secondo anche quello che ci racconta la cronaca, si sono tolti la vita perché sono stati oggetti di insulti, di soprusi e soprattutto di bullismo purtroppo, ahimè, e quindi la domanda è questa, può una società moderna, civile, progressista, solidale e cattolica tollerare tutto ciò? Ne parliamo con i rappresentanti di un'associazione che svolge un lavoro importante e meritorio, sto parlando dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping e quindi in studio con noi abbiamo Luca Massaccesi, segretario generale dell'Osservatorio, grazie di essere qui, e anche Vivian Castelrose, cantante, poi spiegheremo il motivo per cui, cantante. Allora ecco, è una domanda che rivolgo a entrambi, può una società moderna, civile, progressista, solidale e cattolica tollerare tutto ciò? Partirei proprio dal segretario generale Luca Massaccesi? Beh, ci sembra, la risposta è scontata, come possiamo... Certo, non è possibile, non è ammissibile, però succede, però accade. Succede e in questi ultimi anni il fenomeno è in netta crescita e con l'avvento dei media si è ancora più amplificato, perché oggi parliamo di bullismo, ma uno dei problemi ancora più gravi è il cyberbullismo, cioè praticamente oggi tutta la realtà viene amplificata mettendole in rete, quindi ciò che prima era un atto di bullismo ed era... Circoscritto forse? Circoscritto, certo. Oggi non è più circoscritto, perché ormai... Rimbalza nella rete, rimbalza nei social network. Impressionante. Io vi do solo un dato, il 72% dei ragazzi ha la paura più grande, è quella del cyberbullismo quando vanno a scuola, quindi il 72%, stiamo parlando di quasi tutti, non hanno paura del problema della droga, non hanno paura di... Ma forse, segretario, perché purtroppo il fenomeno così facendo non rimane circoscritto o nascosto, ma diventa pubblico e quindi il bambino in questo caso si sente l'oggetto di scherzo di tutti, anche di coloro che non hanno avuto un'azione di bullismo nei suoi riguardi e anzi immaginano che potrebbero averla però. Non solo, c'è una cosa pure in più, che quella paura, quel mostro è sempre in agguato, cioè non stiamo parlando di un fenomeno circoscritto pure in un determinato periodo del giorno, ma per esempio lo possiamo avere di notte, di giorno, è amplificato e in maniera esperienziata. È un pericolo che è nascosto, è dietro l'angolo, diciamo. E poi mi lasci dire l'ultima cosa, è un problema inaccettabile che in una società moderna come ci definiamo ancora esistono e diamo la possibilità dei social come Ask, di permettere l'anonimato dietro e quindi di non sapere chi c'è dietro coloro che commette il reato, perché stiamo parlando di reati. Vivian, che risposta ci dai tu invece? Sì, ovviamente sono d'accordo con Luca in tutto, ma è molto interessante come domanda, perché io ho una risposta particolare che vorrei rivolgere a tutti, a tutti quei genitori o a tutti quei ragazzi con i quali mi è capitato di parlare, con i quali non ho ancora parlato, ma che sicuramente la pensano in modo simile. Questa potrebbe essere anche l'occasione per parlare con coloro con cui non ho ancora avuto modo di... Mi fa piacere poter dire questa cosa. Spesso mi sento rispondere, ah ma un po' di bullismo comunque fa bene, fa crescere, fortifica la personalità, aiuta, poi si diventa... Più forti, insomma. Sperati, allora io vorrei rispondere questo, pensavano così anche quei genitori quando i loro figli andavano a partecipare alla seconda guerra mondiale e tornavano vivi a casa, magari con qualche ferita, ma che vita facevano poi? Rimanevano traumatizzati. Il messaggio lì poteva essere vai per la patria, devi essere orgoglioso di questo, tra virgolette, e si nascondeva magari l'ansia, la paura, che poteva anche esserci la morte nel momento in cui si andava in guerra. Quello che voglio dire è che sopravvivere a qualcosa non significa che tu diventerai più forte e allora vivrai meglio. Spesso bisogna considerare la qualità di vita che si ha dopo quella sopravvivenza. Però Nietzsche diceva questo, ciò che non ci uccide ci rafforza. Sì, ma rimangono degli strascichi spesso, rimangono dei traumi. Io voglio chiedere al segretario Luca Massaccesi, i dati allarmanti dicono che in Italia il 4% dei ragazzi, ed è un'età compresa tra i 12 e i 15 anni, che tentano il suicidio e sono vittime di bullismo. Allora, noi stiamo parlando, ecco, Luca Massaccesi è il segretario generale di un osservatorio nazionale bullismo e doping, un osservatorio molto importante. Ecco, riguardo a questo fenomeno, quali attività fino ad oggi si sono svolte, qual è stato lo scopo delle attività e le reali possibilità di debellare, tra virgolette, il fatto che un bambino che subisce bullismo ricorra poi al suicidio. Allora, innanzitutto non vorrei fare il salvatore della patria e nemmeno con tutte le altre associazioni e le iniziative. Oggi il problema del bullismo, del cyberbullismo... Beh, però l'osservatorio è importante, non sminuniamo il valore. No, no, per carità, ci dedichiamo tempo, energie e anche denaro, quindi ci dedichiamo anima e corpo. Quindi il nostro lavoro su cui contiamo molto è quello della prevenzione. La prevenzione che va fatto soprattutto sui ragazzi, quelli delle fasce più deboli e ancora più piccole. Che cosa significa prevenzione? Noi crediamo che l'osservatorio l'anno scorso e anche quest'anno ha girato da Palermo al quartiere Zen, siamo andati alla scuola Falcone per salire Campobasso, Bari, Ancona, Roma, siamo arrivati fino a Trieste. Abbiamo girato 50 scuole e associazioni sportive, lo abbiamo fatto con dei campioni olimpici. Sono venuti con noi campioni dello sport, Roberto Cammarelle, Andrew Ogo, Stefano Pantano, ma ne abbiamo avuti 30 ospiti. Perché noi riteniamo che lo sport, come metafora della vita, possa essere preso in considerazione per i valori che lo sport di per sé ha. E quindi quando andiamo a parlare con i ragazzi non ci piace raccontare ciò che loro non debbono fare. Non gli vogliamo fare delle prediche perché non avremmo appeal. Noi parliamo con i ragazzi attraverso i successi dei nostri campioni, quindi la metafora dello sport, proprio come stimolo di vita, lo sport come esempio da portare avanti. Lo sportivo è colui... Segretario, mi permetto di dire, lo sport non solo come sport uguale anche a successo, sport uguale anche alla possibilità di aggregare in maniera sana. Mantenendo i valori, mantenendo quindi... Certo, ma allora non è solo il campione colui che ha seguito un percorso e è arrivato al successo, non è solo il campione quello che percorre quella strada. Il campione è uno dei tanti che percorre quella strada e che poi magari la percorsa fino in fondo, fino ad arrivare a conquistare una medaglia importante. Il sacrificio di arrivare. Però tutti coloro che partecipano, tutti coloro che iniziano la pratica sportiva, comunque debbono incardinare delle regole. Non si può salire su un tappeto a fare arti marziali senza fare il saluto al maestro. Una sciocchezza magari, ma è un segno di rispetto, è un segno di educazione. Sono d'accordissimo, di rispetto e soprattutto imparare le regole, che sono quelle che ci aiutano a vivere. Guardi, noi abbiamo fatto un convegno sul rispetto delle regole, è venuto il capo della polizia e il ministro dell'interno, quindi siamo stati onorati di queste presenze, ma l'abbiamo fatto in collaborazione con il MIUR, nel Ministero dell'Istruzione, e abbiamo fatto anche un concorso nazionale. In questi giorni, anzi approfitto per dire che sul nostro sito c'è una giuria popolare che sta votando i video più belli realizzati da tutte le scuole d'Italia, scuole elementari, medie e superiori. Abbiamo avuto 150 video, di cui i primi 45 migliori giudicati da una giuria stanno ora sul nostro sito e debbono essere votati fino al 23 maggio, quindi approfitto per andare a questa cosa. E quindi questa informazione. Io voglio chiedere invece a Vivian, se può raccontarci la sua esperienza, perché Vivian è stata vittima anche di questo fenomeno del bullismo, però il fatto che ne sei uscita in maniera positiva, e mi permetto di dire, rispetto anche al ragionamento che facevamo prima, che magari non è stata un'esperienza positiva, però ti ha rafforzato e non ti ha indebolito. Allora io vorrei che sulla base di questa esperienza potessi lanciare anche un messaggio di positività verso coloro che si sentono vittime di bullismo e che non riescono a trovare una strada, una via d'uscita. Beh, io mi ricordo ai miei tempi e la mia situazione diventò già difficile quando ero all'elementare, quindi molto presto. Dall'elementare poi alle medie fino alla fine del liceo e all'ultimo anno del liceo addirittura mi sono dovuta ritirare in casa a studiare, perché era diventato impossibile. E ben due volte era venuta un'ambulanza fino al mio istituto, perché io avevo somatizzato, avevo dei dolori fortissimi, dovevo essere visitata, quindi i professori avevano chiamato l'ambulanza per andare nel pronto soccorso. Se ce lo puoi raccontare, cosa è successo in questi anni scolastici? Inizialmente... Perché ero un anno avanti, io sconsiglio vivamente ai genitori di mandare avanti i figli di un anno, perché non ha senso. Poi magari si trovano male con i compagni, le età sono diverse, a quell'epoca era importante. E mi maltrattavano molto fisicamente, perché ero piccola, ero molto magra, molto bassina. E quindi immaginavano una bambina debole in questo senso, e quindi che poteva essere... E io ero molto, molto educata, mia madre e mio padre mi avevano dato un'impostazione rigidissima, io quasi da collegio inglese, per cui... Delle regole, anche delle regole di vita, forse sono state quelle che ti hanno anche salvato, tra virgolette. Diciamo, sì, senz'altro, i principi che ho avuto, però l'essere così educata mi rendeva facilmente vittima di chi era più strafottente. Comunque poi, lo sport, tornando al discorso di Luca, mi ha aiutata tantissimo, perché quando mi dovetti ritirare in casa a studiare, avevo comunque uno sfogo esterno in cui concentravo, incanalavo tutte queste mie energie, e attraverso lo sport io potevo toccare con mano, che effettivamente un valore ce l'avevo, anche se c'erano persone che mi facevano stare così male da pensare quasi di non avere. Quindi, diciamo, le regole da una parte, lo sport dall'altra, che ti ha dato la possibilità anche di trovare una valvola di sfogo. E mi ha fatto riconoscere il mio valore. Mi ha fatto riconoscere il tuo valore. Questi sono stati gli elementi che ti hanno dato la possibilità di poter uscire fuori da questa morsa, tra virgolette. Ma anche l'apertura mentale dei miei genitori, che hanno ascoltato. Poi sulla famiglia, infatti, torniamo perché credo che sia un altro elemento determinante e importante per quanto riguarda poi la nascita o meno di fenomeni di bullismo. Ci fermiamo qualche minuto e ritorniamo subito. Rientriamo in studio, stiamo parlando del fenomeno del bullismo. A me, purtroppo, ragazzi, compresi tra i 14 e i 15 anni, vittime di bullismo, spesso ricorrono al suicidio per liberarsi da questa morsa, da questo problema. Ne stiamo parlando con i rappresentanti dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping, Luca Massaccesi, che è il segretario generale, e anche Vivian Castellroso è cantante. L'abbiamo detto all'inizio, cantante. Ecco, perché cantante? Mi sembra di aver capito anche che il tuo cantare è un modo per recuperare dei fondi da destinare poi all'osservatorio. Sì, sì. Io sono entrata nell'osservatorio insieme a Luca, soltanto occupandomi delle relazioni internazionali, sfruttando la mia conoscenza delle lingue, mi proposi, come avevano fatto altre persone, perché il progetto era straordinario, meraviglioso. Certo. però quando hai sofferto determinate cose, ti viene sempre l'impulso di aiutare altre persone che stanno soffrendo lo stesso. Sì, certo. Segretario, le chiedo questo, ma c'è ancora una forte latitanza da parte delle istituzioni riguardo a questo fenomeno? Beh, più che latitanza, forse c'è ancora poca coscienza. Penso che oggi il problema sta venendo molto più a galla, anche se ancora si tende sempre a nasconderlo sotto il trappeto, cercando di chiamare alcuni atteggiamenti bullismo, ma si tende a chiamare magari vivacità dei ragazzi, i ragazzi sono un po' vivaci, oppure... Ecco, qual è il confine? Ce lo può spiegare meglio quando è giusto dire no, non è un atteggiamento, un comportamento di un ragazzo vivace, ma è invece tutt'altro, insomma, una vera violenza che si predispone a fare nei confronti di terzi. Certo, allora, questa linea è sottilissima, ma dipende soprattutto da ragazzo a ragazzo. Ciò che per me potrebbe essere insignificante per un'altra persona, per un altro ragazzo, potrebbe essere traumatico. L'inizio, per c'è. Quindi il fatto che quel ragazzo prende in giro quel determinato ragazzo solo perché magari veste i pantaloni rosa, ok? E quindi non si identifica nel gruppo, ma tende ad uscire magari, no? Da determinati canoni. Allora, magari quel ragazzo sente questa presa in giro forte, prepotente, forse addirittura molto di più di quello che può apparire agli occhi dei genitori, degli insegnanti, eccetera. Quindi io consiglierei un pochettino di andare a parlare, a capire queste reazioni. E badate bene che spesso coloro che, i bullizzati, coloro che appunto vanno incontro a queste angherie, molto spesso non ne parlano, perché molto spesso non sono ben predisposti nel parlarne, ma molte altre volte anche perché non c'è qualcuno che vuol dialogare con lui. Forse perché purtroppo si sentono talmente umiliati che hanno la difficoltà a esporre a un'altra persona insomma l'umilazione che hanno subito, Magari. Sì, perché vede, anche loro magari tentano di nascondere a se stessi quanto quel dolore è forte nel loro cuore fino a che non esplode. Non esplode fortunatamente non... Non sempre nel suicidio però può anche esplodere in una reazione forse eccessiva rispetto anche a come il ragazzo non si riconosce neanche lui nell'aggressività che può tirare fuori. Quella aggressività repressa. spesso magari questo dolore, questo sconforto tracima e si ridentifica in altri comportamenti cioè spesso quando può diventa anche lui bullo magari cerca di... Però volevo ragionare con voi su tre aspetti interessanti sui quali ecco bisogna un po' secondo me focalizzare l'attenzione il primo è la famiglia il secondo aspetto appunto le scuole il terzo che l'abbiamo detto all'inizio poi che è quello più drammatico forse è il web no? Allora io partirei dalla famiglia sempre con Luca Massaccesi la famiglia come deve intervenire per evitare che un bambino possa poi avere un atteggiamento bullo o per evitare che un bambino subisca un atteggiamento insomma il bullismo vero e proprio io la famiglia è la cosa Quali indicazioni anche dare qualche indicazione io però partirei da un'indicazione che è fondamentale secondo me oggi la famiglia i genitori non sono più quelli di una volta no? non vorrei fare demagogia dicendo diciamo la realtà purtroppo eccetera oggi dobbiamo guardare in faccia la verità una volta il maestro era colui che aveva personalità carisma e leadership perché questo gli veniva anche consegnato come valore dalla famiglia certo quando la mamma andava a parlare con l'insegnante gli diceva guardi se non si comporta bene mio figlio gli dia pure uno schiaffo gli dia pure uno schiaffo adesso adesso tutto ciò è finito perso di valore non c'è più ma guai se per caso un professore un insegnante si permettesse di alzare le mani di alzare le mani oppure di sgridare addirittura arriva subito l'avvocato arriva subito ma questo perché secondo lei quale distanza si è costruita nel tempo a parte i valori ma qual è quella incomunicabilità che oggi purtroppo esiste e che allora invece era un valore messo in campo attraverso una comunicazione vera e propria sì perché ma la comunicazione vera e propria c'è stava in quanto la famiglia il genitore prima riconosceva come aiuto come supporto per l'educazione come supporto riconosceva il maestro il professore la scuola quindi questo gap è venuto tanto più a crescere quanto più forte è stata la sensazione da parte dei genitori che i loro figli comunque sono bravi comunque erano non si potevano toccare quindi diventavano più sindacalisti del forse anche per il fatto che visto la società oggi impone dei tempi dei ritmi talmente frenetici dove il monoreddito io credo che non esista quasi più quindi anche i due coniugi devono per forza lavorare quindi c'è un assenteismo all'interno delle mura domestiche quindi si regala al figlio quell'autonomia che forse in realtà non ha ma che l'acquisisce attraverso i nuovi strumenti la nuova tecnologia che forse gli dà una falsa autonomia sì ma questa è più una giustificazione che noi diamo a se stessi forse perché si può comunque lasciare il valore all'insegnante anche se io sono anzi a maggior ragione dato che il ragazzo passa molto tempo a scuola quindi il contatto con il professore diventa ancora più forte dovrebbe essere ancora più importante quindi il genitore dovrebbe costruire un rapporto importante non delegittimare il lavoro esatto ma mi permetto di dire anche un'altra cosa la famosa educazione civica che prima magari veniva rientrava tra la materia da insegnare oggi ad esempio non c'è più che era un ulteriore elemento che magari poteva creare ancora di più quel feeling tra gli studenti e il professore trattando una materia che usciva fuori dalle classi che storia geografia e via diciamo quindi forse quello potrebbe essere un ulteriore elemento di avvicinamento tra il maestro e gli alunni invece cosa succede ecco appunto le scuole quindi a maggior ragione visto che non esiste più questa comunicazione tra le famiglie e il maestro quali strumenti dovrebbero adottare per evitare che i fenomeni del bullismo si proliferano così in maniera evidente e forte sono le cronache stesse che sono testimonio di questi fenomeni purtroppo guardi quando praticamente il ruolo del professore della scuola viene così messo in secondo piano il ruolo di forza di leadership di comunicazione il ragazzo che è intelligentissimo perché guardi stiamo parlando di ragazzi che oggi sono super informati e super veloci quindi sono nativi digitali ma non tanto perché sicuramente perché sanno navigare sanno usare il web eccetera come meglio dei genitori come pochi altri però anche questo gli dà una certa indipendenza anche di pensiero di forza quindi sentono benissimo come il cavallo sente bene quando il cavaliere sopra non ha patronanza e forza i ragazzi sentono benissimo intorno a loro la possibilità di essere più vispi e vivaci e quindi viene un pochettino si sentono più forti quindi diventa difficile per la scuola parlare senza avere la forza poi di tenerli diciamo un'inversione di tendenza rispetto anche a come tu hai vissuto questo fenomeno quando andavi a scuola insomma tenendo presente che magari avevi una famiglia alle spalle in questo caso che ti ha saputo dare come dicevi tu giustamente delle regole forti importanti e che ti hanno reso ancora più solida di fronte a certe situazioni oggi secondo te appunto la famiglia per una serie di motivazioni che abbiamo fino adesso elencato assenteismo all'interno delle mura domestiche forse anche neanche più i nonni sono quelli ambrottizzatori sociali che potevano sostituire i genitori come si possono i genitori come possono intervenire secondo te i genitori siccome sono persone giovani dovrebbero mettersi in gioco fondamentalmente aprirsi tantissimo all'ascolto all'apprendimento loro stessi perché ci sono tante tante conoscenze anche nell'ambito della psicologia oggi quindi non ci sono solo gli svantaggi di questa società telematica che è avanzatissima ma anche i vantaggi e i vantaggi portano verso un'apertura mentale a chiedere aiuto magari a degli esperti validi noi abbiamo due esperti validissimi il neurologo Daniel Siegel che è un americano e il terapeuta famoso a livello mondiale Giorgio Nardone italiano che si occupa specificatamente di terapia breve strategica e loro danno un contributo ovviamente perché ce n'è bisogno quindi sarebbe bello che in queste scuole ci fossero delle figure di riferimento al di là dei professori che hanno già tanti impegni e sono berati delle figure esterne che collaborassero molto con i genitori però lì ovviamente questo passo deve essere effettuato dalla famiglia noi possiamo metterci in gioco andare nelle scuole portare i campioni io posso cantare perché il desiderio di cantare cantare mi è sempre piaciuto tantissimo tantissimo non l'ho mai fatto a livello come nasce questa passione scusami io sono sono soprano naturale quindi da quando ero bambina canto però siccome l'ambiente è un po' è quello che è è quello che è io non mi sono mai hai pensato di investire questa passione in una causa molto più nobile rispetto a quando si è presentata questa causa ho pensato improvvisamente da che mi occupavo delle relazioni internazionali ho detto ma in effetti una risorsa di fundraising forse ce l'ho certo io so cantare se la metto a disposizione la metto a disposizione qualche concerto per raccogliere fondi per l'osservatorio e anche per incoraggiare i ragazzi soprattutto per mettersi sul loro piano comunicare con loro in modo più positivo come dicevi tu prima certo perché sicuramente la musica è un ottimo canale un ottimo canale io ecco segretario chiedo questo abbiamo parlato della famiglia della scuola e l'avevamo accennato all'inizio il web nel web c'è una sorta di democrazia totale e quali sono ecco secondo lei avete mai pensato a delle leggi per regolarizzare questo fenomeno debellarlo è chiaro percorsi anche formativi sì guardi allora innanzitutto la prima cosa che ci piace sottolineare è che non dobbiamo demonizzare il web no? perché il web è importantissimo è il futuro è il presente ma è il futuro oggi tutto gira sul web dalle comunicazioni a quant'altro per quanto riguarda la formazione per la formazione noi abbiamo una partnership forte con la direzione nazionale generale del MIUR per la parte dei docenti e quindi contiamo il prossimo anno di fare degli incontri con tanti professori oltre che con i ragazzi perché comunque i professori ce ne sono tantissimi che hanno voglia di lavorare che hanno voglia di partecipare che si sentono nelle possibilità di dare concretamente un aiuto e quindi spesso fa più rumore un ramo secco che cade che una foresta che cresce quindi la notizia oggi rimbalza più velocemente come dicevamo prima rimbalza più velocemente quindi se qualche professore però magari si comporta male oppure c'è qualche altro problema nella scuola però la scuola oggi è ancora fondamentale sia per il ruolo che esercita vicino ai ragazzi e quindi la formazione non va rivolta ai docenti non va proprio sottovalutata e noi stiamo facendo pure un protocollo d'intesa con Tor Vergata affinché insieme possiamo creare proprio dei corsi di formazione per esperti di progettazione in corsi di prevenzione quindi tutte quelle figure di educatori che lavorano vicino ai ragazzi che non sono solo i professori ma sono anche i maestri di sport a proposito di prevenzione le chiedo questo come per i mafiosi e i terroristi anche per i bugli è prevista la figura del pentito che può ricevere assistenza gratuita da parte del polo legale dell'osservatorio nazionale ecco la stessa tutela anche alle vittime non crede che metterli sullo stesso piano possa ostacolare un'efficace azione di contrasto al bullismo allora guardi noi pensiamo questo innanzitutto il bullo fondamentalmente è un ragazzo che sta proprio in una fase di crescita in un periodo di sviluppo quindi con il bullo è una persona che ha bisogno di aiuto quanto il bullizzato allora non possiamo pensare che il bullo è il ragazzo cattivo da mettere all'angolo e lasciarlo in disparte perché quel ragazzo ha energia magari più di altri da canalizzare che non gli è stato mai insegnato come canalizzarlo che non c'è nessuno ci ha mai parlato nessuno ha mai parlato certo guardi io per esempio sono stato leggermente vivace va bene diciamo ma non bullo però specifichiamo non molto diciamo però ho avuto la fortuna di fare sport ok allora io ho fatto arti marziali nei primi in due anni sono riuscito a vincere il campionato italiano e sono riuscito dalla strada a percorrere dall'educazione proprio stradale perché in famiglia avevamo un po' di problemi e mi piace diciamo che l'arte marziale gli ha dato delle regole mi ha dato fondamentalmente delle regole e sono riuscito talmente tanto a incanalizzare questa energia a canalizzare che lo sport mi ha dato la possibilità di riscattarmi socialmente io ho vinto una medaglia alle olimpiadi a Barcellona io ho vinto una medaglia ai mondiali coppa del mondo e grazie allo sport no sono riuscito a mettere proprio in campo tutte quelle energie che prima magari sfociavano in altri in altri settori quindi io ritengo che al di là che lo sport è fondamentale è fondamentale come prevenzione quindi auguro a tutti i genitori di dedicare anzi non auguro suggerisco di dedicare tempo ai propri figli anche se il periodo storico è importante se c'è il monoreddito è finito tutto quello che volete ma i vostri figli hanno bisogno di una presenza hanno fondamentalmente bisogno dell'amore della comprensione della vicinanza dei propri genitori quindi accompagnatele a fare sport perché è fondamentale Vivian siamo quasi arrivati alla fine insomma ti faccio un'ultima domanda quindi per capire anche ritornando un po' sulla tua esperienza le regole e poi anche lo sport sono state comunque i punti i pilastri sui quali tu hai lavorato non le regole i principi perché le regole possono essere anche troppe regole verso un ragazzo quindi premerlo prestarlo troppe regole possono essere controproducente controproducente però perché i principi sono stati gli elementi che ti hanno aiutato a contrastare questo fenomeno e a uscirne fuori oggi infatti poi ecco addirittura la cosa più importante dai un contributo forte all'osservatorio nazionale del bullismo e del doping proprio perché la cosa bella che è uscita fuori ma credo che già era dentro di te questo atteggiamento anche di altruismo nei confronti degli altri cercando perlomeno per coloro che stanno vivendo la stessa situazione di dargli una mano non posso definirlo e riuscire a tirarli fuori scusami non posso neanche definirlo altruistico perché è una cosa che fa bene a me stessa riuscire ad aiutare qualcun altro mi fa stare bene bene io ringrazio Vivian Casterrose cantante Luca Massaccesi segretario generale dell'osservatorio nazionale bullismo e doping avremo altre occasioni per continuare a parlare di questo fenomeno e io ringrazio anche tutti quanti voi che siete lì all'ascolto ci diamo appuntamento alla prossima giovedì della prossima settimana buona serata buona serata